Quindi dal punto di vista demografico, per ragioni che trovano la loro radice in eventi anche lontani, però è stato un progressivo indebolimento della struttura demografica della pubblica amministrazione. Secondo aspetto, la formazione. Oggi guardando di nuovo due numeri sulla formazione, vediamo che si spendono ben 48 euro a persona per la formazione del settore pubblico, ho detto bene ironicamente, e un solo giorno è destinato alla formazione del personale pubblico. In questa situazione avvengono due cose. Primo, la pandemia. E la pandemia ci ha fatto riflettere su tanti aspetti del nostro modo di vivere, ma certamente ci ha, come dire, ci ha rivelato la centralità del settore pubblico nel, come dire, nel proteggere il nostro modo di vita, nel proteggere anche, se volete, la qualità della nostra vita. E la seconda, il secondo evento, è il piano di ripresa e resilienza. Questi due eventi richiedono nuove professionalità, quindi richiedono investimenti in formazione e richiedono nuove forme di lavoro. Se voi pensate allo sviluppo del lavoro smart working, come si chiama in inglese, e ci sarà anche una parola di italiano adatta per descriverlo, ma vediamo com'è cambiato il nostro modo di lavorare. Nuove professionalità richiedono investimenti e richiedono nuove regole. Questo è quello che oggi stiamo cominciando. Il patto è sicuramente un evento di grande importanza, perché, come è stato detto, è un evento che ha importanza per il metodo, importanza per il contenuto, importanza per questa relazione di dialogo che c'è, ma è, ricordiamocelo, il primo passo. Il molto, se non quasi tutto, resta da fare. Ed è con l'augurio che sapremo tenere fede al contenuto di questo piano, alle aspettative, alle promesse di questo piano, che vi ringrazio di nuovo tutti per oggi. Grazie.